Non è ovviamente escluso che non vi saranno altri ricoveri in futuro, ma a venerdì scorso l'ospedale Morelli di Sondalo ha festeggiato le dimissioni dell'ultimo paziente in cura per un'infezione da Covid-19. Un anziano che ha superato la fase acuta e può dirsi guarito. Non era mai successo dal 5 marzo 2020, nei 38 mesi di apertura del reparto Covid-19, ma è rimasto vuoto per un solo giorno. In poco più di tre anni i ricoveri presso le strutture ospedaliere della provincia sono stati oltre 3.500, con una percentuale dei decessi che è progressivamente diminuita, il 25% nel 2020, il 15% nel 2021 e il 10% nel 2022. Ma è proprio a chi non ce l'ha fatta che ha pensato la dottoressa Chiara Rebucci, infettivologa responsabile del reparto Covid-19 quando venerdì scorso ha dimesso l'ultimo paziente. È stato un momento surreale, quasi non riuscivo a credere di avere il reparto vuoto, sottolinea. La maggior parte dei pazienti che abbiamo curato in questi tre anni è tornata a casa, ma io non faccio altro che pensare alle persone che abbiamo perso. Mi vengono in mente le telefonate ai parenti per comunicare la triste notizia, il dolore e i pianti. Speriamo di non rivivere mai più un'esperienza come quella della pandemia. Tre anni sono un tempo lunghissimo, soprattutto quando non si è preparati ad affrontarli. Un'esperienza intensa dal punto di vista personale, ma anche sotto l'aspetto medico, condivisa con la collega Marta Benedetti e con alcune decine di altri medici, fino a 50 contemporaneamente, fra infettivologi, pneumologi e altri specialisti del Morelli e degli altri ospedali della provincia, che si sono alternati all'interno dei reparti che necessitavano di essere continuamente riorganizzati. Il ringraziamento più sentito della dottoressa Rebucci, in particolare per tre colleghi che non si sono mai tirati indietro, Francesca Antoniazzi, oncologo, Patrick Caspani, fisiatra e Alessia Marziani, chirurgo. Se il sistema sanitario provinciale è stato in grado di reggere la pressione e di fornire una risposta tempestiva alla più drammatica pandemia che si sia mai verificata è grazie agli uomini e alle donne di questa azienda, ha dichiarato il direttore generale Tommaso Saporito. Mi auguro che anche oggi, a distanza di mesi dalle fasi più drammatiche, i cittadini siano consapevoli della prova straordinaria fornita da tutte le persone che hanno lavorato senza preoccuparsi degli orari e ignorando la stanchezza con il solo obiettivo di curare e salvare i pazienti.